Da fenomeno a fenomeno a parlare è Ronaldo, quello brasiliano, il primo fenomeno, alcuni dicono quello originale. Parla di Francesco Totti invitando il capitano della Roma a decidere in piena serenità e a giocare, fin tanto che se lo sente dentro. Jingle Spot www.pronosticoonline.com, rubriche, pronostici e consigli per passare alla cassa. www.pronosticoonline.com Lui deve sentire il momento, gioca finché vuoi, faccia sognare ancora. Hai visto che le ultime partite le ha cambiate entrando quasi alla fine? Infatti, ma lui deve capire che quando è il momento che non riesce più a fare le cose che faceva prima, allora lì è il momento di dire, beh, non ce la faccio più, basta, devo ripensare qualcosa. Però sarà lui a decidere e tutto quello che ha dato è calcio. Se lo merita tutto il rispetto, il tempo che vuole per decidere è un grandissimo campione, è un grandissimo simbolo per l'Italia. Audio Sport News Audio Sport News